Allora, benvenuto a Calibro 9 che è una manifestazione ormai storica per Genova e ogni anno si ospita un'icona, quest'anno è toccato a te o lei, non so se possiamo darci del tu, del lei o del voi preferire, dimmi tu No, 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 tu, tu Del tu, va bene Allora, tu hai lavorato con dei grandi maestri del cinema italiano, tu qui sei ricordato per il cinema poliziottesco, come si diceva però hai sperimentato anche altri filoni, non è un mistero per nessuno che la commedia italiana sia stata di grande ispirazione anche per alcuni maestri del cinema americano, Tarantino Tu l'hai vissuta anche la commedia italiana, ricordo Fantozzi, Super Fantozzi, era uno del filone Sì, sì, infatti fra le gente incredibile con il contratto in Italia, fra le attore, Ugo Tognazzi, ok, Fersetti, ok Perciò, sì, io ho fatto dei film generisti, cioè quando mi hanno fatto fare Polizia, poi ogni volta che ho potuto fare altre cose mi sono scappato veloce per farle, cioè quando faccio il film con Fersetti Valentina Cortese, dicono Valentina Cortese Scusami Valentino Perciò lì era una specie di truffa, cioè era un film e Fernando che aveva fatto la regia Poi, perciò, no, perché volevo parlare di questi attori, Pani che mi sembravano un pazzo, Orsini Pani che mi sembravano un po' too much, erano molto bravi anche loro Poi, chi c'era, cioè comunque io ogni volta che sono uscito del genere ho trovato della gente abbastanza appassionante A me il mio sogno era in fondo di fare della commedia, poi non ho il fisico che corrisponde Invece io amo non i film, gli sguignazzi, amo i film dove con la cosa la più naturale, tutti una cazzata immensa Ed è quella che deve fare ridere, non... Sì, tu parla di Enzo Cannavale Ah sì No, ma io ho avuto, scusami, finisco, cioè ho avuto la fortuna di girare in un ambiente dove ho veramente incontrato Della gente stupenda E questo è una cosa che uno si tiene da parte Dal cuore Sì, perché questo non te lo toglie nessuno A proposito di gente particolare, tu hai girato anche con gente che col cinema non c'entrava nulla, no? Hai girato un Carlo Sponzon addirittura, un grande... Sì, sì, questo... Jacques Brel, voglio dire, hai avuto... Ah, no, Brel, siamo a Aix-en-Provence, accanto a Marsiglia Sì, Marsiglia E giriamo, io ho una parte piccolissima Facevo l'amante della bimba che non so più se era la sua donna, non mi ricordo Comunque E Brel dice, vabbè, andiamo in night un sabato sera Night di Aix-en-Provence Come so... Ci lasciano passare E poi, neanche dopo dieci minuti la musica Finisce? E Brel è rimasto fino alle sei di mattina Io sono partito alle quattro perché ero morto Però parlando con tutti Un'intelligenza, un'intelligenza, una sensibilità, una cultura Cioè un personaggio incredibile, veramente extraterrestre Perciò questo per i film diversi Monzon Era un altro personaggio rispetto a Brel, voglio dire Sì, sì, infatti, capito, ecco Io ci ho parlato di coso, adesso parlo di Monzon Mi chiamò Rodolfo Sabattini che era il produttore del film Era nella produzione, avevo trovato un torinese che era nella pasta Pasta, sì, che aveva fatto soldi con la pasta e l'ha perso col cinema E poi, come sportivi, cioè era abbastanza, era bravissimo Perciò tutti dicono sempre che uno bravissimo in un campo Non può essere completamente deficiente in un altro Invece ogni tanto uno si sbaglia Perciò mi dicono co-protagonista Ho detto, bene, c'è un fratello un po' gringo Ma why not? Non so se mia madre ha peccato o mio padre Comunque posso avere un fratello E poi recupero il copione e sono l'antagonista Dico, oh, eravamo spesso di due fratelli Adesso, ah, no, il signor non voleva più che io fosse antagonista Ma protagonista Ho detto, va bene, allora prendo un amico mio scrittore Che era un enorme cinegiatore, Alberto Silvestri Che ha fatto Iuppidù, che ha fatto tutte le cose con Maurizio Costanzo Cioè, cervello E io gli dico, guarda Sto scemo Non vuole che io sia antagonista Facciamo un antagonista Infatti per tutto il film Io prendo le decisioni più terribili Cioè, questa bimba lì passò con la Rolls Vedo la bimba, quella la prendiamo E sempre col sorriso E sempre, cioè, a controtempo dell'azione No, era uno, era un genio nel suo coso Però mi sembrava meno pericoloso su un ring Che nella vita Che Poi ci sono, vabbè, delle anedote Ma sono nel libro Senti, tu hai Dicono le cronache Poi sentivo anche prima Che c'è un po' di verità e un po' no Che tu hai rifiutato il famoso ruolo di monnezza Che probabilmente ti avrebbe cambiato la vita Ancora più di quanto non è stato Cioè, un ruolo che Thomas Miriam In effetti Ha svoltato dal cinema d'autore E è passato al cinema Voglio dire Popolare, nel senso buono Ti sei pentito di questa scelta negli anni? No No Guarda La cosa la più intelligente Dopo che il film è stato fatto bene E che abbia successo E che io In fondo ho reso Iuso, Gagliano Ricco E Thomas è partito Io non A parte che non avevo Avevo due pagine Poi non ero Come gli ho detto Io non sono per la commedia Perciò Non era per me Non era per te E cioè Ma non mi divertiva Per esempio Lui metteva un beretto Perché perdeva già i capelli Io c'eravo ancora Aveva le parrucche dicevano Perciò mi fregava niente Voglio dire No Non era È stato molto carino Gli uso di propormelo Però gli ho detto Guarda La commedia che io amo È quella degli americani Degli anni 50 40, 50, 60 Perciò E Vabbè Perciò Perché lo dovrei piangere Cioè Ho rifiutato anche Sandokan Ah Sì Perché Non avevo voglia Di fare televisione Arrivavo In Italia Io scoprivo tutto questo Il cinema vero Che mi piaceva Non Poi non volevo partire Un anno da Roma Cioè Mi togliere la pasta E il caffè Posso anche incazzarmi Perché ti sei allontanato A un certo punto Allontanato Allontanato Sì Diverso È l'opposto Mi sono allontanato Perché Perché A un momento Ero un po' Incazzato Col cinema Perché Non avevo l'impressione Che mi restituiva Tutti i sforzi Di fare delle cose diverse Cioè Perciò Mi sono detto Infatti Merli Lo dimostra Merli Nasce con Napoli Sì Bella Che rifiuto E ne fa 40 Anche lì Non posso fare Perciò Mi sono trovato Un po' Un portafogo Ok Stretto E poi Perché Ho avuto Un Un C'ho avuto Un incidente C'ho 30% Di invalidità Permanente Se io devo Indietreggiare Se non giro il culo Non vedo dietro Perciò C'ho 30% Di invalidità Non è 3 E Poi Ho fatto Un processo Alla produzione Perché C'erano Delle manette E io C'ho questa sequenza Donde le manette Facevo un salto Enorme E poi Mi mettono Le manette E poi Verifico Dico Ma Oh Ah no Ma quello che doveva Fare sì Che se va male Apro E E Lì Mi sono Mi sono Mi dispiace Anche perché Il produttore Tutto sommato Non era Non era Così Non mi era Antipatico Affatto Però C'avevo la Minerva 3-4 mesi Dopo E lo incontro In una proiezione E lui Dice Che ti è successo E lì Uno Io mi sono fracassato Sul tuo film Perché un imbecile E il primo imbecile Ero io Perché non avrei dovuto Accettare Però Mio padre L'avevo seppelito Di domenica Per poter essere Lunedì Sul set Perché in Francia Domenica Non si è pelle Neanche gli uomini Politici Sono seppolti La domenica E Lì Mi sono Proprio Mi sono Incarnito Perché Fra L'assicurazione Che mi mandava Un dottore Che diceva Mette Le lampade Sai che riscalda E' scemo C'avevo Due cervicali Schiacciate Certo E poi Io che stavo male Perché mio padre Era morto Perciò Finalmente Cioè Ho vinto Il processo E lì Di un botto Non ero più Merenda orion Dove ero francese E questo Mi ha un po' Rotto Anche perché Ho scoperto Roma E ho scoperto Da dove arrivavo Perciò Nessuno Mi può toccare L'amore Che è un po' L'Italia Casa tua E ho scoperto Di un po' L'amore Sì Grazie a tutti